Sarà portata all'attenzione del Consiglio regionale grazie ad un'interpellanza del consigliere dei 5 Stelle Fabio De Chirico la vicenda legata all'area dell'ex Romagnoli di Campobasso, una vicenda che quasi si perde nella notte dei tempi di cui si parla infatti da ben 16 anni. Tempi biblici figli della burocrazia ma soprattutto della lentezza della politica. A riaccendere i riflettori sulle sorti della vasta area di proprietà della regione è stato come detto De Chirico che ha chiesto di sapere come stiano realmente le cose e quali siano le reali intenzioni della regione. Nel corso degli anni a più riprese infatti è stata annunciata la realizzazione di progetti faraonici che avrebbero dovuto trasformare la zona attualmente abbandonata al degrado più assoluto in un'area a servizio della città con infrastrutture verde pubblico e soprattutto con la sede unica della regione. De Chirico ha ripercorso le tappe dell'iter partendo dal 2005 quando un accordo di programma tra regione e appunto il comune di Campobasso prevedeva un dettagliato programma di investimenti, l'ormai famoso master plan, per acquisire e realizzare immobili che avrebbero dovuto ospitare gli uffici regionali. Qualche anno più tardi nel 2008 fu bandito un concorso internazionale di progettazione e nel 2010 la regione acquistò l'immobile dell'exo Terroxi che andava battuto e ricostruito per 7 milioni di euro. Seguirono un tortuoso iter amministrativo e ricorsi delle associazioni ambientaliste contro la prevista cementificazione, ricordato De Chirico. Si giunse così nel 2014 ad un nuovo accordo con la revoca del vecchio concorso e la pubblicazione del concorso di idee con la individuazione e la premiazione dei primi tre studi tecnici e i rispettivi progetti. Un progetto che rispetto al passato riduceva la cementificazione e i costi stimati in 50 milioni di euro. Da allora tuttavia nulla si è mosso. Cinque anni più tardi però, ricordato De Chirico, Toma ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la demolizione del Roxi. Ma ancora una volta il progetto ha subito l'ennesima battuta d'arresto. Da qui l'interrogazione dell'esponente dei Cinque Stelle. Toma dovrà dirci chiaramente se la regione intende davvero procedere con il progetto, la collettività, il diritto di conoscere le idee della politica per il futuro della città, ha concluso De Chirico.